Amici appassionati di calcio, ben ritrovati in questo nuovo episodio della carriera naturale con la Roma qui su Football Manager 2019. In questo momento so che vi starete ponendo un sacco di domande perché vedete delle cose strane. Se, in realtà riprescarvi il precedente episodio e guardate questo, ma c'è stato un salto temporale o cosa? In realtà è successo che ho perso il video che ho appena registrato. Ho fatto un errore, mi sono accorto di aver eliminato, per sbaglio, il precedente. Non mi succede mai questa cosa, cioè non mi è successa in quasi due anni di YouTube qua su Football Manager, qua su Mr.FM. Dove va a succedere oggi che sono tornato appunto dalle vacanze. Ecco, non fate mai video appena tornate dalle vacanze perché il vostro cervello è ancora per un attimo in vacanza. Quindi, cosa abbiamo perso? Abbiamo perso un episodio bruttissimo. Fatto di addirittura quattro partite perché c'è stata la SPAL, l'amichevole contro il Benevento. Il pareggio contro l'Intrasferta, poi l'eliminazione della Champions contro il Barcellona e la sconfitta intrasferta contro il Milan. Andiamo un attimo a vederle, anche perché c'è alcune cose da dire. In questo episodio, ragazzi, purtroppo farò molto probabilmente solo una partita perché devo farvi poi tutto il riassunto del precedente. Se da una parte abbiamo corso e, in teoria, ci mancano adesso pochi episodi al termine della stagione, dall'altro, ripeto, questo episodio sarà un po' particolare perché c'è stato proprio un vuoto che dobbiamo colmare con le dovute spiegazioni. Partendo, direi, dalla partita contro la SPAL. Partita contro la SPAL, vinta 2-1, ci riguardiamo i gol e guardiamo anche la formazione. Poi la andremo a vedere con molta più calma. Formazione che ho deciso di utilizzare, approfittando poi della pausa nazionale, per far sì che la squadra la capisca bene perché volevo che andasse al Camp Nou con questi giocatori, con questo modulo. modulo che si basa su una transizione, su delle verticalizzazioni veloci, una sorta di contropiede, anche se non voglio chiamarlo contropiede, però insomma una squadra che dalla difesa fra palla la conquista e poi verticalizza velocemente alla ricerca poi dei centrocampisti e degli attaccanti per cercare di fare una manovra il più veloce possibile, ma il meno rischiosa possibile, per cercare appunto di stare coperti in vista poi degli attacchi del Barcellona o di squadre comunque stiappostiche. La squadra ha risposto bene, la SPAL sicuramente non è un banco di prova importantissimo, difficilissimo, tra l'altro se non ricordo male, i gol ottenuti contro la SPAL sono venuti tutti da calci piazzati, se non ricordo male, ho questo ricordo qui. Di fatti, esatto, Kolarov, calcio di punizione, scusate, va a pescare la testa di DHB, poi arriva anche il 1-1, il pareggio da parte della SPAL, direi neanche dopo non sa quanto tempo, palla in mezzo, Lazzari, Fares, poi qui Manolas non la spazza perfettamente, Costa al volo, Bugacragno e nel secondo tempo, Kolarov, calcio di punizione, sotto l'incrocio arriva appunto il 2-1 definitivo Roma. Sguardo anche alla formazione, poi parleremo anche di Bamba, state tranquilli, Bamba nel senso del giocatore, va bene, non facciamo ulteriori figure, ulteriori ignoranze in questo video, questo è il modulo, quindi per qualsiasi cosa chiedete pure, consigliatemi pure qualcosa, l'unica cosa che dovrei appunto andare a mettere è questa, visto che il portare il pallone in aria risulta, cioè i cross di prima non sono praticamente mai arrivati, quindi portare il pallone in aria forse è la scelta migliore. Detto questo, lo sguardo al modulo, poi ripeto parleremo anche di determinati giocatori del perché sono lì, partita contro il Torino, ancora una volta, anzi no, contro il Toro decido di non schierarmi con il nuovo modulo, ma di schierare il nostro classico modulo, ed è stata una partita sfortunata, direi abbastanza sfortunata, il Toro ci ha messo in difficoltà perché comunque affronta una squadra ostica, quando gioca soprattutto in casa, però qui purtroppo c'è un solito problema, il problema dei contropiedi, che non avendo una squadra adeguatamente preparata là davanti, con dei giocatori, con degli attaccanti, con dei centrocampisti affidabili, dove non sbagliano quasi mai, rischi appunto di subire i contropiedi. Contropiedi è subito, ma poi la risposta arriva poco dopo, se non quasi subito dopo, con un ottimo gol da parte di Cristante, che se non sbaglio fa un gol sui 30 metri, fa una cosa incredibile, giocatore davvero assurdo, giocatore che io ho criticato, mi ripeto, io non mi nascondo, Cristante l'ho criticato tantissimo iniziato a generare, dicendo, ma, acquisto secondo me è inutile, non vale tutti quei soldi, molto bene sarà sul mercato, ragazzi, questo è il miglior centrocampista in questo momento della Roma, cioè è il miglior centrocampista in assoluto, una media vuoto incredibile, fa delle cose assurde, veramente non me l'aspettavo. Andiamo purtroppo a parlare del ritorno contro il Barcellona. Gol che arrivano tutti nella seconda parte della partita, tutti nel secondo tempo, schiero questo modulo, è il modulo quello che abbiamo visto contro la spalla, guarda che gioca bene, primo tempo che cede 0, cede 0, fa sfortunati, perché comunque sia non siamo usciti a sfortunati, insomma attaccanti che non sanno concretizzare l'occasione avute. Nel secondo tempo però adesso andiamo a vedere i gol e vedrete anche come abbiamo subito i gol, poi naturalmente c'è una premessa da fare, dopo il 1-0 cambio modulo, perché ho detto partita è chiusa ormai, in realtà no, scusate, dopo il secondo gol partita è chiusa. Qui vediamo questo, può segnare anche il portiere al Barcellona, può fare anche gol al portiere, sanno essere fenomeni tutti, sanno far gol tutti, hanno degli ottimi piedi, tutti i giocatori, ci segnano nell'arco di due minuti due difensori, partita è chiusa, e decido di utilizzare il nostro classico modulo, mi espongo di più, cerco di rendere la partita un pochino più bella, più divertente, più divertente per i tifosi che suonano al Camp Nou, perché il Barcellona poi dilaga, fa il 3-0 con Coutinho, partita è chiusa, poi si addormentano, insomma noi non siamo poi in grado, non siamo riusciti a fare neanche il gol della bandiera. Si esce a testa alta? No, non si esce a testa alta, purtroppo a partire da fondamentale era quello in casa, dove siamo stati sfortunati, dove abbiamo perso, ma dove comunque sia il Barcellona ha meritato di più. Cosa che non ha meritato secondo me è il Milan, perché è il Milan, anche qui giocando sempre con i nostri soliti giocatori, ma con l'arrivo di Bamba dalla primavera, no scusate, dall'Andre 18, non dalla primavera, 16 anni ne compierà 17 a giugno, 7 gol infatti con l'Andre 18, perché Orighi si era fatto male, Orighi che non poteva giocare contro il Milan e quindi gioca Bamba e purtroppo non è riuscito a trovare il primo gol, ma ci mancherebbe, 16 anni è san sì, è difficile per tutti. Partita dove secondo me avremmo meritato di più, lo dico, non mi nascondo anche in questo caso, perché comunque c'è stato un palo di mezzo, poi è stata la sfortuna di questo autogol con la deviazione fondamentale di Manolassa, se avesse tirato Pionte, che sarebbe comunque sia arrivato il nostro portiere, poi nel secondo tempo, sul finale di gara, Conti apre l'arcobaleno e Pionte col sinistro al volo ne approfitta e segna la rete del definitivo 2-0. Una partita anche qui bruttina, un episodio brutto che forse per fortuna non avete visto, perché tante premesse, tante promesse, tante speranze, è una Roma che veniva da un periodo incredibile, fatto di zero sconfitte, se non quella ottenuta poi in Champions League e in Coppa Italia. Davvero un grosso peccato. E appunto dopo 16 partite fatte di risultati positivi è arrivata la sconfitta, sperando che questo non sia nascosto un inizio poi di una nuova crisi. Alla fine, se pensiamo al calendario dell'andata, adesso qui però è tutto spalzato, però il periodo di crisi, di crisi di non costanza e nei risultati, era esattamente qui, era esattamente in questa parte. Quindi stiamo attenti, stiamo molto attenti, cerchiamo di non inceppare nel nostro solito errore, anche perché in questo episodio non vedrete comunque tutte queste partite, però avremo appunto Juve, Inter, Caglian in trasperta, sarà difficile. Chiuderemo il campionato, però con delle partite molto semplici, almeno sulla carta, e oltretutto le partite difficili sulla carta, sono tutti in casa, ovvero Atalanta, Lazio e Fiorentina. Il resto sono tutte trasperte che si possono vincere, chiaramente senza sottolineare gli avversari, però oggettivamente sono più fattibili. Oggi giocheremo contro la Juve, io direi di non utilizzare ancora quel modulo, magari lo utilizzeremo contro l'Inter perché giochiamo in trasperta, contro la Juve nonostante sia prima, nonostante sia una squadra davvero fortissima, ma voglio giocarmela con, in solito modo, alcuni giocatori che ho. Juve di Sarri che ci ha sempre battuto, sia per quanto riguarda il campionato, sia per quanto riguarda la Coppa Italia. Abbiamo modo di rifarci, una Juve che comunque sta volando, ha praticamente quasi vinto ormai il campionato, sono davvero troppi ormai i punti di stacco che separano la Lazio, il Milan, la Fiorentina, la stessa Roma dal primo posto, però insomma cerchiamo comunque di vincere, perché noi abbiamo altri obiettivi per questa stagione. In questo momento siamo sesti, però abbiamo la possibilità, se tutto va bene, di poter superare il Napoli e avvicinarci molto alla Fiorentina, che è a 55 punti, quindi se ne andremo a meno uno dalla Viola e poi cercheremo insomma di fare il nostro campionato, cercando poi eventualmente, se non sbaglio, tra l'altro dobbiamo ancora affrontare la Fiorentina esatto in casa, poi quel che sarà secondo me uno scontro diretto tra Lazio e Fiorentina, tutte quelle squadre. Cerchiamo insomma di far la partita, di giocare bene, è un periodo dove non arrivano i risultati, ma è anche un periodo dove continuiamo ad affrontare squadre veramente molto forti, quindi dobbiamo, ripeto, darci una svegliata, dobbiamo farlo, abbiamo adesso la Juve, vediamo se l'episodio non diventerà troppo lungo, affronteremo anche l'Inter poi, nella settimana prossima, e vediamo un attimo la panchina della Juve, vediamo un attimo chi ha, insomma la Juve che ripeto, gioca bene, ma attenzione perché Colarov è sempre in difficoltà, non ha mai ottenuto delle vittorie nette. Cornea, Douglas Costa, chiama lo schema, pallone in mezzo, Manolas, spazza e poi attenzione perché Colarov addirittura la recupera, potrebbe esserci la ripartenza veloce Roma, di fatto è così, va a verticalizzare, perdivo con Righi, attenzione Righi si accentra, c'è spazio dall'altra parte, lo vede il Cerraoui, attenzione il Cerraoui, il controllo ottimo di Cerraoui, mamma mia ragazzi, occasionissima Roma, occasionissimo, con Tupendi direi, perfetto, che non si è andato a concretizzare, perché noi là davanti abbiamo quel maledetto problema del non saper concretizzare, davvero incredibile questa squadra, perché non abbiamo, non è possibile che il Cerraoui sia il bomber della Roma, con 12 gol, cioè sono contento, sono contento per lui, ma non è una cosa comunque sia fattibile, è vero, Ronaldo magari gioca nel stesso ruolo, Ronaldo è il capo canone della Juve, però Ronaldo ha la scosta che segna, Di Bala che segna, noi invece purtroppo abbiamo soltanto il Cerraoui che fa tanti gol, poi c'è Schicke che sta riprendendo, poi c'è Orighi che è appena arrivato, deve prendere ancora confidenza col campionato italiano, però ripeto, non possiamo, cioè dobbiamo cambiare, l'anno prossimo comunque saremmo costretti a modificare qualcosa, a vendere qualcuno, e dobbiamo cercare di far rendere gli attaccanti, perché è una squadra forte, è anche una squadra che comunque gli attaccanti li sa far rendere, e il Cerraoui, Kolarov, pallone in mezzo, Hunder, sì, non la prende, che non ho visto bene, forse Chiellini o Alexandro, non ho ben capito, l'arbitro va a vedere, ma vai a vedere cosa, che lì c'è stata la cappellata poi del difensore della Juve, Roma 1, Juventus 0, guardalo pure il VAR, e ritorna anche di Hunder dopo un infortunio pesante, che non l'ha visto contro il Barcellona, fosse stato Hunder, se lo ci fosse stato lui, gol chiaramente, convalidato, assolutamente, dodicesima rete, vedete, Hunder e il Cerraoui, gli attaccanti esterni, puoi anche giocare così, ok, ma a questo punto, che servono gli attaccanti, qui, Alexandro, mi sa che era quello che non è andato sul pallone, o ma tu di adesso non ho, ero distrato dal mio discorso, e non l'ho visto, inizio perfetto, come ho detto, la Juve, ci ha battuto, ma ha sempre avuto delle difficoltà, adesso cerchiamo di, ridare, un po', alla Juve, quello che, che abbiamo subito, ho sudato freddissimo, intanto qui con Kolarov, ha fatto un ottimo recupero, ma gli interventi da dietro sono sempre pericolosi, si fanno sempre temare, attenzione qui al Cerraoui, sbaglia, Alexandro recupera, col pressing però costante di Dio Corighe, allora cerchiamo di rimanere su, Ronaldo, uh, come supera Florenzi, attenzione allora a Ronaldo, avanza la Juve, avanza CR7, buono questo scambio con Di Bala, Di Bala, Di Bala, Di Bala, Cragno, grande Cragno, messa a Roma, da Recollarov alla battuta, Ziyech, poi apriamo la parentesi su Ziyech, sul numero 10, io per ora gliel'ho dato, io non sono uno di quelli che no, la 10 perché è di Totti, allora se la deve meritare, è un giocatore secondo me da 10, con la maglia numero 10, poi il nuovo Totti, anche se io, penso che i giocatori come Totti siano unici, però è un giocatore che magari può fare la carriera Totti, sicuramente la Roma ce l'ha, ed è Riccardi, un giocatore, un centrocampista che può essere una futura bandiera di questa squadra, però non per questo gli stiamo preservando la 10, per quando insomma giocherà davvero bene, intanto Di Bala, 1-1, Juve che pareggia, Juve che come ho detto, vedete, ha i giocatori, ha la palo Di Bala, che 7 gol, non sono tantissimi, ma sicuramente questa Juve è anche orfana magari di Mandzukic, o di altri insomma attaccanti, magari Mandzukic è infortunato, questo non lo so, non mi ricordo neanche se l'ha venuto, non penso, però c'è Di Bala, che di solito non gioca neanche in quella posizione, ma vedete, i suoi gol li fa, e la Juve che pareggia, Di Bala, ancora lui, la glascosta, riesce a prendere questo pallone, adesso la Juve che, ha acquistato un po' di fiducia nei propri mezzi, non che mancasse questa squadra di fiducia, perché gioca veramente molto bene, ma Colorov ragazzi oggi sta facendo un partitone, Colorov è un muro, voi potete dire che è lento, che sicuramente sarà in calo, ma io Colorov me lo tengo stretto, non lo voglio dar via, sicuramente poi Kurzawa potrebbe diventare titolare, Colorov riserva, ma Colorov comunque alla Roma ci deve sempre essere, Undera, e difatti nonostante Kurzawa, Colorov rimane titolare, Divocko Righi intanto, buono questo scambio, con il Sharawi, e la gran, io, vabbè, io vabbè, tirà quello di Scesni, solo lui sa come ha parato sto pallone, e siamo ancora uno a uno, Ziyech, Colorov, Corighi, non ci arriva, allora Cristante, non si cerca la conclusione da fuori, no, serve Lorenzo Pellegrini, allora ancora Colorov, aprimi l'arcobaleno, Orighi, sfiora il gol a Roma ancora, io odio il gioco quando, mi fai cambi alla cazzo, non volevo assolutamente mettere Nura, volevo mettere Bamba, adesso sono costretto a fare il doppio cambio, tra l'altro andando proprio, ad abbassare, la forza, nel settore destro, dove tra l'altro c'è un certo Cristiano Ronaldo, odio veramente profondo, quando non mi prende il giocatore, me ne prende un altro, poi faccio l'istituzione rapida, e quindi l'errore è anche più evidente, perché non te ne accorgi subito, ma te ne accorgi appena fa il cambio, vabbè, vabbè, speriamo insomma che Bamba e Nura, due giovani, possano, comunque dare una mano, cambiare le sorti di questa partita, Parkle al posto di Pellegrini, cambio a centrocampo, ultimo cambio della partita, anche se chiaramente non voluto, per via dell'errore fatto con Nura, ma, ripeto, speriamo bene, partita che per ora non sta più offrendo nulla, secondo tempo dove si è visto poco e nulla, dove non ci sono state azioni importanti, vediamo in questi ultimi 12 minuti, con Ziyech che è stanco, con Ziyech che, ripeto, deve trovare confidenza, lui, Barclay, Simorighi, sono giocatori che secondo me, esattamente come è stato col Genua, mi seguo le live perché ha seguito la carriera col Genua, daranno tanto, ci metto la mano sul fuoco anche in questo caso, daranno molto di più a partire dalla prossima stagione, perché arrivare a Gennaio da un campionato diverso, da una realtà diversa, non è semplice per nessuno, naturalmente ci sono delle eccezioni, ci sono dei campioni che lo sanno fare, però risulta comunque sia difficile per molti, partita che sta finendo, quindi 1-1, quindi ancora 0 vittorie contro la Juve, e saranno 0 in questa stagione, Bamba che spazza, Barclay che cade, che si tuffa, e la Roma che guadagna, un buon pareggio direi contro la Juve, si è giocato meglio, si è fatto di più, siamo stati sfortunati, Juve però molto brava nel concretizzare le poche occasioni avute, rispetto a noi, ma noi comunque siamo avuti una buona difesa, credo avrei preferito vincere, perché una vittoria con la Juve fa morale, anche ai fini della classifica, dove a questo punto abbiamo una Fiorentina, che deve giocare una partita in più, quindi sarà difficile, bisogna adesso vincere, bisogna vincere, avremo un po' l'altra spetta contro l'Inter a San Siro, dove dobbiamo cercare in qualche modo di tenerli lontano, dobbiamo cercare di rimanere sul treno Champions, molto combattuto, molto combattuto, il secondo, il terzo, il quarto posto, sono tutte lì, siamo tutte lì, e soprattutto noi partita finita contro l'Inter, avremo poi un calendario molto più semplice, da dover assolutamente sfruttare, quindi stiamo molto attenti a questo, il prossimo episodio, come ho detto in questo episodio, avremo solito una partita, ovvero quella con la Juve, prossimo avremo l'Inter, Cagliari e Frosinone, non dico che mi aspetto tre vittorie, perché però almeno due, due è il minimo essenziale, due vittorie un pareggio, per me sarebbe la scelta migliore, c'è stato il debutto di Nura, c'è stata la seconda partita giocata da Bamba, se volete ve lo faccio vedere questo Bamba, giocatore che con l'Anda 18, sta giocando veramente molto bene, adesso in questo momento, eccolo qui, non lo vedevo, è in crescita, ha un buon potenziale, naturalmente non diventerà un fenomeno, o perlomeno non si sa, non lo so, però il giocatore che ti fa 17 gol, come attaccante esterno, messo in quel ruolo, non sono pochi ragazzi, non sono assolutamente pochi, quindi vedremo di dargli anche lui delle occasioni, anche perché in quel ruolo effettivamente, oltre un der, non c'è nessuno, perché Klaivert è attaccante sinistra, ed è il sostituto di El Chalagui, quindi perché no, abbiamo forse trovato un buon sostituto indiscreto, sostituto per un der, in attesa poi chiaramente del calciomercato, come ho detto, prossimo episodio, vedremo quelle partite, con gli osservatori, sto cercando due profili, un giocatore simile a De Rossi, proprio ho dato questa impostazione, gli osservatori si può fare, non so se lo sapete, poi magari un giorno vi farò vedere anche come farlo, un giocatore simile a De Rossi, e poi un attaccante simile a nessuno, perché direi simile a Schick, o simile a Origi, secondo me no, però sto cercando sostituto eventualmente De Rossi, in caso lui rifiutasse un rinnovo con la Roma, anche perché vi dico la verità, De Rossi vorrei che rimanesse a Roma, è il capitano, è un giocatore simbolo, ma non posso offrirgli un contratto del genere, 35 anni, tutto questo guadagno è esagerato secondo me, quindi o si adegua a quello che gli offriamo noi, oppure saremo costretti a salutarlo, esattamente come nella realtà, ci si vede signori in un prossimo episodio, ciao a tutti, sempre Forza Roma!